Nella serata del primo novembre è arrivato l'ultimo giro di ruota. Dopo quasi quattro mesi leva le tende la ruota panoramica dall'area verde alle spalle della palla di pomodoro. Questa mattina operai e mezzi meccanici erano al lavoro per il via alle operazioni di smontaggio dell'attrazione inaugurata a Pesolo lo scorso 8 luglio e che in 116 giorni di permanenza ha visto centinaia di cittadini e turisti salire a bordo incuriositi dal gettare lo sguardo fra litorale e mare adriatico dall'alto dei 35 metri della ruota. Per Pesolo è stato il terzo esperimento di variazione al suo skyline balneare dopo le precedenti esperienze con la torre panoramica di 75 metri e ristorante a 50 metri d'altezza di Dinner in the Sky. La ruota panoramica della società Parisi trasloca ora verso una destinazione più invernale. Ancora da valutare se con Pesolo sarà un addio o un arrivederci.